E' un'attesa minima quella che divide il fedele pubblico di uomini e donne dalla messa in onda dello stesso programma sul piccolo schermo. La prima puntata del People Show condotto da Maria De Filippo, video virgola sarà, infatti, trasmessa sulla rete Mediaset di Canale 5 in data 10 settembre. Dunque, sarà proprio questa la data che segnerà l'avvio di una nuova edizione ricca di sorprese e di colpi di scena. Per cominciare, infatti, assisteremo ai vari confronti delle coppie che hanno preso parte all'ultima edizione di Temptation Island. Tra queste vedremo Lara Rosi Zorzetto confrontarsi con l'ex fidanzato Michael Di Giorgio. In merito alla presenza di Lara all'interno dello studio di Uomini e Donne sono stati vari gli appelli del pubblico sul possibile trono della ragazza. A riguardo l'autrice del programma, Raffaella Mennoia, ha svelato un'interessante dichiarazione rendendo pubblico il proprio pensiero in merito alla Zorzetto. Alla Mennoia sembrerebbe interessare molto Lara dunque sarà lei la prossima tronista? Uomini e Donne News Lara prossima tronista? La preferenza della Mennoia sono stati davvero tanti coloro i quali speravano di poter rivedere Lara Rosi Zorzetto sul piccolo schermo, precisamente sul trono rosso di Uomini e Donne. In realtà la ragazza non prenderà parte a questa edizione del trono classico e, come ben sappiamo, non è una delle nuove troniste ufficialmente confermate, video, in trasmissione. Ma come si suol dire la speranza è l'ultima a morire? Il pubblico del famoso People Show di Canale 5, infatti, imperterrito continua sul web ad appellare la richiesta di vedere l'ex fidanzata di Michael sul trono. Appunto è anche lecito domandarsi per quale ragione la Zorzetto non sia stata confermata nuova tronista del programma. Appunto a rispondere indirettamente è stata Raffaella Mennoia la quale recentemente ha rilasciato una dichiarazione particolare alla rivista settimanale Oggi. Sulla fonte appena citata, l'autrice del People Show di Maria De Filippe ha rivelato di trovare Lara una personalità molto interessante e che, per tale ragione, sarebbe stata un ottimo personaggio da inserire sul trono di Uomini e Donne. Come ben sappiamo, però, per poter sedere sulla nota poltrona rossa è importante che la mente del tronista sia totalmente sgombra e che il suo cuore sia effettivamente libero. Ad oggi, dunque, il cuore e la mente di Lara sono realmente pronti ad una nuova e ipotetica relazione? Non ci resta che attendere la risposta da parte della diretta interessata. Ciao!